ERIFUSI ASML Buongiorno signora Benvenuta Benvenuta nel mio bar Per bobatì In cosa posso essere utile? Ok Tre bobatì Tre bobatì La posso consigliare Guarda un po' Allora le faccio vedere Di qua trova i bobatì classici Quelli tradizionali Poi qua abbiamo Quelli fruttati Come puoi vedere Poi qua ci sono le eccezioni Con le aggiunte Un po' Di cose un po' strane Ecco E ancora Aggiunte extra Ok Il primo signora Un po' Patti tradizionale Ok Con le bobat Ai mirtilli Ok Le mettiamo anche Un guccio di latte Perfetto Ok Allora Andiamo a prendere I nostri bicchiari Intanto Allora Andiamo a mettere Il nostro tè Ok Perfetto Ok Mi sa che ne ho bisogno Dell'altro Perché Non ne ho molto Comunque Allora Ok Un altro Sempre proprio a tè Quindi ne prendiamo due Ok Un attimo Un attimo Solo signora Che ho finito Il tè Vado a prenderne Un altro Ok Vado a prenderne Dell'altro Così Le riempio Il bicchiere Meglio Va bene Arrivo subito Signora Mi aspetti qua Mi aspetti qua Vivo Ho recuperato L'altro Perfetto Ok Bellissimo Signora Ok Questi sono Intanto Il classico L'altro Come mi diceva Che lo voleva Sì Dopo Andiamo a fare Le aggiunte Signora Non si preoccupi Che Ok Ah L'avevo visto Su listino Con il telo Il primo Ok Con il telo Ok Allora L'altro Lo volevo Con i frutti Lossi Giusto Succo Ah Questo qua Ok Il succo Con i frutti Lossi Perfetto Perfetto Un'ottima Un'ottima scelta Signora Io devo dire Un'ottima scelta Allora Il primo Lo andiamo a decodare Adesso Andiamo a prendere Le vostre Perle di tapioca Ok Ok Ci mettiamo qua Sì Andiamo ad aprire Ok Ah Sì Signora Sì Sono al mirtillo Sono buonissime Queste Signora Una Due cucchiai Le perle di tapioca Sono buonissime Ok Perfetto Le metto delle altre Va bene Ok Così lo facciamo Per abbondante Ok Perfetto Allora Con le perle di tapioca Nere Andiamo a mettere Per colore tutto Un goccio di latte Signora Inbasta Un goccino Perfetto Come Questo Il nostro Boba Tradizionale Il tradizionale Questo Signora Sì Quello classico Fatto con le boba Nere Al mirtillo Come può vedere Eccole qua E poi Si mette Un goccino di latte E la Ti do una mescolata Signora Lo vuole così Una mescolatina Ok Allora Questo qua E' il primo Signora Ok Perfetto Il secondo Come ha detto Che lo voleva Qua che volevi Mettere i semi Di basilico Perfetto Qua voleva un mix To the mix Ok Un mix Con le boba Alla fragola Fragola Mango E pesca Ok Allora Aspetta che non Le trovo più Mi sono Sbagliate Allora Il mango Signora Un attimo Che ho finito Le bobe al mango Vado a prenderle Mi ha fatto i possibili Scusi Come fa Signora Sono arrivata Anche quella Il mango Allora Mi ha detto Fragola Metà di mango Ok Sì 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 Signora Sì Allora Mettiamo qua Adesso Allora Mettiamo un po' di mero Così Che sì Allora Mettiamo la fragola Così Poi mettiamo La mix Allora Mix Perfetto Allora Fragola Mango Eccola qua Nostra mango Signora Queste Signora Sono buonissime Signora Sono veramente Buone Eccola qua Fragola Mango E Mella verde Ha detto Ok Un ottimo mix Signora Devo dirle Che Un ottimo mix Eccola qua Allora Fragola Mango E Mela verde La mela verde Signora Ah Sono buonissime Queste Eccola qua Perfetto Vuole qualcos'altro No Che vuole Classico Non vuole un cucino Di latte Anche qua Poco poco La svolveratina No Alomone E' semplice Questo Ok Questo qua E' quello Semplice Ok Questo qua E' quello Semplice Signora Perfetto Questo qua Polibisimi Di basilico Ok Andiamo Allora Li ho preparati Qua Ora Con il nostro Boccolino Li andiamo a scolare Dall'acqua E li andiamo a mettere Dentro La sua bevanda Quindi Andiamo a scolarli Sì Perché li abbiamo fatti Li abbiamo fatti Confiare Signora E ora Li andiamo a mettere Dentro Il coso Eccole qua Abbondiamo Lei voleva abbondare Ma ha detto Che è giusto Ok Questi Sono molto Richisti Anche perché Vanno A purificare L'organismo Sì Sì Sono molto richisti La sua amica Ha scelto bene Ha scelto proprio Proprio bene Ah Voleva un pizzico Di cioccolato Glielo metto Anche di qua Allora Ok Andiamo a incioccolatare Uno Ok Andiamo a mescolare Perfetto Ci ho messo Un po' di cioccolato Anche qua E andiamo a metterlo Anche qua Perfetto Un po' di cioccolato Signora Lasci che le consigli Le volevo consigliare Delle boba Anche qua dentro Che sono trasparenti Sono al gusto Liche Sì Sono trasparenti Le faccio vedere Ok Vuole vedere Perfetto Allora Un attimo Sono Ecco le qua Signora Glielo metto Giusto Due Tre Se vuole vedere Sono proprio Trasparenti E hanno un gusto Molto Molto Delicato Glielo metto Un'altra Due Tre No Basta così Tanto per assaggino Hai un'altra Due Tre Ma certo Molto Molto Volentieri Signora Ok Sì Sono 4 euro A A Perso Signora 4 8 12 Carta O Banco Basta Signora Carta Bene Bene Allora Appoggi pure La carta Ok Mi digita Alpi Il tasto Verde Perfetto E da un'altra Mescolatina Signora Così Anche qua Con il cioccolato Così Ok Perfetto Ok Questo è il suo Sfondrino Signora E Queste sono le sue Bevande Ok Perfetto Grazie Signora Torni pure A trovarci Le auguro Una splendida Giornata Sì Sì Ah Ok Ok Avete Avuto anche L'altra Volta Ma Perfetto Perfetto Allora Conosce già Questo nostro Posto Spero sia stata soddisfatta Signora Mi raccomando Ci lasci pure Una recensione Sì Bubble Tea Bar E rifiuti Sì Sì Ci lasci pure Una recensione Così Così ci fa Anche un po' Di pubblicità Ok Signora Ok Arrivederci Arrivederla Signora Arrivederla Salve 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 Salve